Una battuta dei telegiornali, dettata da Di Pietro, e paga pantalone. Però ecco, questo a beneficio del nostro pubblico, che spesso, sai, la gente è meno disinformata di quanto non immaginiamo. Non esiste nessuna commedia di Totò che si chiama Io pago. È una battuta detta in un film. Punto. Che ho detto questo prima? Sì, è detto commedia. Ah, perfetto. Eh, quanto puntone inzorci. È una battuta detta in un film, giustamente. Si segna tutto, c'è il libretto, il taccuino, qua, ogni cosa. E adesso è diventato il tormentone di striscianotizia, appunto, ogni volta che c'è qualche caso scandaloso da denunciare. Io pago. Di sperpero di denaro pubblico. Che attualmente, diciamo che, ecco, adesso il discorso, prima parlavi del fatto della gente più cattiva. Forse c'è più attenzione adesso alla mediaticità, in qualche modo? C'è più attenzione, scusa? Da parte il pubblico. A che cosa? Scusa, non ho capito la domanda, vi faccio una domanda di riserva. Un aiutino. Rispetto a prima, c'è una maggiore attenzione rispetto a prima, di fronte all'esposizione mediatica, appunto, delle notizie? Delle brutte notizie, diciamo. Sì, brutte notizie, parliamo di... Soprattutto di quelle brutte, perché stranamente quelle belle non fanno notizie, appunto. Solo quelle brutte, chissà perché si ricottano e vengono enfatizzate. Sì, certo. Dicevo anche prima, per collegarmi al discorso che facevo, che la spietata lotta all'ascolto, all'audience, tra le detti televisive, ha generato una continua ricerca di casi al di sopra delle righe da proporre alla gente. Perché la gente, da una parte, è assuefatta alle brutte notizie, e quindi in parte è indifferente. Ciò resta più indifferente. Sì, però al tempo stesso, se dei fatti di cronaca hanno qualche elemento, qualche ingrediente un pochino particolare, che li differenzia da tutti gli altri, chissà perché ci si buttano a pesce poi. Cioè, da una parte c'è indifferenza, quindi c'è una mamma che ammazza il figlio e confessa, non ne frega niente di nessuno, il giorno dopo è dimenticata. Una mamma che ammazza il figlio e non confessa, e allora gli fa scattare tutta una serie di morbosità, di curiosità, di situazioni per cui tutti ci inzuppano il pane. Tutti ormai vengono i giornali quasi come un film adesso. Sì, effettivamente negli ultimi tempi ci sono stati 3-4 casi, parlo degli ultimi 4-5 anni, dei casi veramente incredibili, tanto li sappiamo tutti. Il caso di Erba è una cosa che darà capriccio. Il caso di Erika e Omar, il caso Franzoni ed altri 3-4. Non dimentichiamo però negli scorsi anni, ai tempi di Cecchiametta. Sicuramente ci sono sempre stati più omicidi. Il caso del Canaro a Roma, che è stato forse l'omicidio più esperato. Sì, però si è identificato subito. Il problema è che quando un caso si risolve subito, la gente dopo un po' se lo dimentica. Invece a tenere banco sono i casi dove c'è sempre un margine di dubbio, che in qualche modo genera due opposte fazioni, innocentisti e colpevolisti. E questo fa sì che proliferino tutta una serie di iniziative, di show contro show, inchieste, dibattiti. Tutti gli invitati a questi salotti che a vario titolo intervengono, spesso gente che non c'entra nulla, che non ha alcun titolo per parlare e per sentenziare. Però Blatter ha ruota libera in maniera di tutto incontrollata, tutta una serie di teorie, una serie di ipotesi che non sono suffragate in realtà da nulla. E tutto questo ha una funzione molto pericolosa, quella di innescare nella gente una serie di reazioni a catena abbastanza inquietanti. Sicuramente. Non solo, ma anche il desiderio di emulazione, che è una cosa molto pericolosa. Perché io, è vero che mamme che hanno ammazzato i bambini ce ne sono sempre state. Però, dopo il caso Cogne, guarda caso, c'è stato il caso della mamma che ha messo i bambini in lavatrice, quell'altra che l'ha soffocato con una busta di plastica, e poi c'è stato quello che l'ha messo nella bagnarola e l'ha affogato. Cioè, una cosa continua, non si era mai vista. Un'altra che se ne ha portati due nel lago e li ha affogati tutti e due. Perché secondo te ci sono dei casi che... Perché, giustamente, io penso, sembra una stupidaggine, chissà quante di queste mamme omicidi hanno pensato. Cioè, vedi, la Franzoni sta su tutte le copertine che ha ammazzato un figlio. Io ne ammazzo due e mi daranno ancora più spazio, nelle prime pagine. Incosciamente posso scattare questi meccanismi. Sì, però ci sono dei casi che salgono subito, rimbalzano agli onori della cronaca. Altri no. Per esempio, c'è stato un caso a Ostia Lido, Lido di Ostia, qualche, diciamo, meno di 15 anni fa, più o meno. Una madre, presente, ha trovato, almeno ha dichiarato di aver trovato, i suoi due figli morti in una vasca da bagno. All'epoca il giudice le ha creduto e, praticamente, è stata archiviata come una disgrazia. Dopo circa due anni, questa era una professoressa, mi sembra, di lingue, il marito di educazione fisica, qualcosa del genere. Non ricordo bene, perché poi abito non molto lontano di là, perciò ho vissuto, ecco, prima persona, anche questo episodio lo ricordo bene. E, dopo circa due anni, è morto anche un altro figlio, appena nato, aveva pochi mesi, nello stesso modo. A quel punto è stato rieperto anche il caso precedente, si è scoperto che questa madre aveva ucciso tutti e tre i figli. Mio Dio. Però perché questa notizia, per esempio, è uscita qualche giorno sui giornali, però non ha suscitato quella che è stata l'attenzione mediatica? Ci sono una serie, ascolta, ci sono una serie di fattori concomitanti, no? E come un film, perché un film ha successo un altro? Poi ti faccio la domanda perché ormai sei quasi un criminologo, insomma, della celluloide. Perché un film piace e un altro no? Cioè, neanche piace, perché magari un film attira e appena esce manda la gente al cinema ed altri no. Sono una serie di elementi che, in qualche modo, uniti tra di loro, fanno una miscela tale che può o meno suscitare determinate reazioni. Certe vicende incuriosiscono, altre meno. Ma è un fatto abbastanza insondabile, a volte, a parità di crimine. Poi ci sono, ecco, dei casi eclatanti, che è inevitabile che... Il caso dei bambini, il caso di pedofilia di Rignano Flaminio. Per chi è colpito? Cioè, voglio dire, di... Della scolastra, chiaro. Eh, ma ci sono tre maestre, tre mamme di famiglia. Poi che siano colpevoli o innocenti, noi non lo sappiamo. Però, il fatto stesso che siano indagate, uno dice, oddio, allora io mando... Qualcunque mamma pensa, oddio, io mando mio figlio a scuola, mio figlio ha due, tre anni, credo che stia in buone mani, invece possono succedere delle cose incredibili. È chiaro che ci sentiamo un po' tutti colpiti, no? Il caso Franzoni, per esempio, perché ha colpito tanto? Resta il fatto che io, voglio dire, non sono né colpevolista né innocentista. Mi riferisco, voglio dire, ovviamente, a quello che è nelle cronache di tutti i giorni. Perché ha colpito tanto? Perché ogni mamma ha pensato dentro di sé. Ma allora anch'io un giorno potrei, ammesso che la signora abbia ammazzato veramente il bambino, potrei anch'io avere un momento di follia, un momento di rap, perdere un attimo la pazienza, magari ammazzare mio figlio, no? Come qualunque figlio pensa della propria mamma, oddio, mia mamma avrebbe potuto ammazzare anche me, no? E tu sai che all'uomo italiano tutto li puoi toccare tranne che la mamma. Quindi in un certo senso questo caso ha toccato dei tabù della famiglia che riguardano un po' tutti noi, cioè tutte quelle cose che sono dentro di noi. Ecco, quando tocchi argomenti di questo tipo magari è più facile che scatti questo interesse morboso perché il discorso è sempre quello della paura, paura che anche a noi possa succedere qualcosa di simile. Tu hai parlato del caso di pedofilia, poi ci sono tanti casi di pedofilia magari da parte di rappresentanti del clero che magari vengono insabbiati dalla chiesa, dalla santa sede e naturalmente non ribalzano agli onori della cronaca. Poi ci sono casi come il caso per esempio di Marseille de Gugliato che è stato addirittura beatificato ed è stato accusato per circa 20 volte di abuso sessuale a danno dei seminaristi. Però Marseille de Gugliato è il fondatore delle giornali di Cristo, chiaramente ha creato una grossa congregazione plurimiliardaria, direi proprio miliardaria infatti perché milionaria parliamo proprio in termini di euro. e praticamente giustamente è stata insabbiata dall'attuale Papa Ratzinger che è stato, allora era prefetto della congregazione della fede, l'ex sant'uffizio praticamente. Però adesso con questo discorso stiamo un po' sconfirando. No, però è una cosa, io tengo un tanto in un ambito un pochino... Ma addirittura Marseille de Gugliato è stato fino anche beatificato addirittura. Sì, sì, no, addirittura. Però al rigore di verità bisogna anche dire questo, ecco, non è spettacolizzazione ma è verità, verità mediatica. Perciò ci fermiamo per un attimo perché magari vediamo se c'è qualche notizia di qualche prete pedofilo che è stato inquisito, è stato inviato a giudizio. Guardate, scusate, però se sono argomenti un po' seri forse andrebbero trattati con meno leggerizia. Sicuramente, ma io li ho trattati sempre molto seriamente.